Intanto prosegue il blocco degli straordinari dei dipendenti. Nel Lazio, solo nel 2014, il codice, l'Associazione dei Consumatori, ha raccolto quasi 100 segnalazioni per presunti casi di mala sanità. La denuncia in un incontro organizzato a Roma dal titolo appunto La tutela del cittadino dalla mala sanità, organizzato dallo stesso codice. Si parte da errori e negligenza medica, errate diagnosi che in molti casi hanno portato anche a decessi. Tanti, troppi, denuncia l'Associazione, sono gli esposti che il codice invia alla Procura. E le ragioni sono varie. Dalle strutture obsolete alla carenza di personale per ottenere un risarcimento, i pazienti e i loro familiari ricorrono alla giustizia penale e civile. Negli ultimi nove anni gli errori medici sono costati alla sanità nazionale quasi un miliardo e mezzo di euro.